Siamo oggi in presenza dell'architetto Stefano Raschellà che ci parlerà di un importante progetto di vulnerabilità sismica realizzato qualche anno addietro proprio nel nostro territorio. Buonasera, salve. Il progetto a cui si riferisce è appunto il rapporto Barberi che venne realizzato a cavallo tra gli anni 90 e 2000, esattamente nel biegno 1999-2001. Venne realizzato con la straordinaria partecipazione di ben 818 tecnici distribuiti nelle regioni più a rischio dell'Italia meridionale e anche interessò l'indagine la Sicilia orientale. Due furono i tronconi di indagine di quel progetto a cui lavorammo un po' tutti e cioè la vulnerabilità sismica dei famosi edifici strategici speciali, intendendo per strategici e speciali gli edifici pubblici, vale a dire le scuole e quindi gli ospedali, le caserme, laddove appunto viere c'è una densità e un accentramento di gente e di popolazione. E poi l'edilizia corrente, cioè vale a dire le abitazioni private dei nostri centri storici. Viene definito rapporto Barberi perché prende proprio il nome del sottosegretario che all'epoca lo finanziò, appunto il professore Franco Barberi, che fu sottosegretario all'interno con l'incarico e al coordinamento della protezione civile. Purtroppo il dato emerso è che la classe alta di vulnerabilità, quindi un'esposizione alta al rischio sismico, la riscontrammo in molti edifici pubblici della Locride, in molte scuole della Locride. Però direi che il dato più anomalo è che la classe alta di vulnerabilità la riscontrammo addirittura anche in quegli edifici cosiddetti in C.A., cioè vale a dire in calcestruzzo armato, che invece sulla carta dovrebbero poi rappresentare gli edifici teoricamente più sicuri. Intendiamo per classe di vulnerabilità l'indice di esposizione di pericolosità rispetto all'evento sismico che può avere un edificio pubblico oppure un'abitazione privata.